Salve youtubers! Come purtroppo voi saprete il 2 maggio è successa una tragedia nel mondo metal. E' venuto a mancare il fondatore e chitarrista di Slayer, Jeff Haneman. Sono venuto a conoscenza di questo fatto soltanto ieri. Non so cosa succederà nel futuro per la band, però spero che sappiano riprendersi dal trauma. Le mie condoglianze vanno specialmente alla famiglia di Jeff, sua moglie e i suoi cari. Ci tengo a fare questo video non per visualizzazione o altro, solo per sfogo personale. Jeff è morto a causa di una malattia che l'ha consumato lentamente. Nel 2011 gli è stata diagnosticata una necrosi al braccio che sembrava risolversi, invece nell'ultimo periodo si è complicata ulteriormente e si è trasformata in insufficienza epatica. Quindi il fegato non ha più reagito. Il suo cor ha smesso di battere. Niente. Voi continuate a seguire il mio canale. Di certo non smetterò di fare il video solo per la scomparsa di Jeff. Ovviamente sono rimasto anche io un po' male. Stai Metal a tutti quanti, supporto agli Slayer, supporto a tutto il Metal e noi ci vediamo a un prossimo video.